Una maledizione che non poteva durare in eterno, effettivamente le tante sfortune, il tifo appassionato anche questo weekend, la passione, la tenacia, l'umiltà maturata negli ultimi anni hanno spinto verso un traguardo unico e storico, lo vedete alle mie spalle. Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monaco per la prima volta in carriera a casa sua, in un Gran Premio particolare, speciale, diciamo in generale per tutti i piloti di Formula 1 che sognano di vincere su questa pista, almeno una volta nella propria carriera. Il monegasco, il re di casa, il beniamino di casa che vince questa tappa, l'abbiamo rinominata, il principe che divenne re sul monte Charles, una vittoria certamente non scontata, una vittoria che Charles Leclerc ha quasi sempre accarezzato con le mani, no? Dove sappiamo che su questa pista la pole conta praticamente il 90% della vittoria, ma non è mai, mai riuscito a vincere, neanche a salire sul podio paradossalmente. Quest'anno abbiamo assistito secondo me ad uno Charles forse più maturo, più calmo da un punto di vista mentale, così come ha detto anche lo stesso Vassar, è riuscito a gestire magistralmente una gara dal primo all'ultimo giro, una gara forse la più noiosa della Formula 1, però che ci ha tenuto incollati alla TV per 78 giri, pronti e carichi ad emozionarci alla bandiera a scacchi, abbiamo visto piangere anche i tifosi non Ferrari. Questo weekend hanno pianto praticamente tutti. Guarda, è stato il weekend della commozione secondo me, nel senso che Charles ha un, oltre che un grande talento, ha un bellissimo modo di fare e riesce ad essere empatico con tutti, per cui nel momento in cui lui riesce, in quella che è la sua impresa quasi storica se vogliamo, no? E riesce a coronare il suo sogno che è quello non solo di salire sul podio ma addirittura di vincere il Gran Premio di Monte Carlo. Un po' tutti riescono secondo me a identificarsi nella sua vicenda e nella sua storia. Impressionantissimo poi il team radio del Monegasco che si è praticamente liberato dalla gioia. Poi tutti i festeggiamenti da quando è sceso dalla monoposto fino al podio. Il segno di quanto questo ragazzo tra queste strade proprio del Principato sognasse di correre in Formula 1, di vincere questa gara, ripetiamo, la più bella, la più sognata dei piloti di Formula 1, ma soprattutto di vincerla con la rossa. Segno che questo Charles è davvero maturato da questo punto di vista anche mentalmente, come ha detto lo stesso Vassar. Hai visto effettivamente uno Charles diverso? Io credo che il livello di maturità mentale che abbia raggiunto Charles non si debba a questo Gran Premio in particolare, ma a tutto un percorso che lui ha intrapreso negli ultimi cinque anni ormai. Nel senso che io me lo ricordo quando era arrivato in Ferrari nel 2019, giovanissimo ovviamente, molto acerbo su certi temi, su certi tratti, un po' come lo era però d'altronde Max, da minorenne addirittura in Red Bull, no? E ha fatto un bellissimo percorso, secondo me, che lo ha portato ad avere una consapevolezza di sé, dei suoi limiti, se così vogliamo chiamarli, e di come superarli, della macchina che ha, perché ricordiamoci che lui ha fatto la pole a Monte Carlo anche quando non aveva una macchina da pole position. Coronazione che arriva forse anche un po' tardi, secondo me, per quello che è stato il suo percorso, il suo processo, però ha il giusto riconoscimento. Non di là della vittoria sul Gran Premio di Monte Carlo, che per lui significherà tantissimo, questo secondo me può essere un grandissimo sprono per migliorarsi sempre di più e fare sempre meglio. Assolutamente, hai citato tra l'altro papà Hervé, che è stato citato anche dallo stesso Charles, infatti abbiamo anche una foto relativa alle dichiarazioni di Charles post gara, non ci sono parole, pensavo al mio papà, era il nostro sogno, e anche lo stesso Charles ha detto a due giri dal termine, già cominciava a piangere, però mi sono detto Charles, non adesso, infatti c'è anche un'altra foto bellissima che abbiamo trovato sul web, è una delle foto, secondo me, più belle di tutto il weekend. Si può riaprire paradossalmente il mondiale quest'anno, è chiaro che bisogna un attimino mettere i puntini sulle i. Monaco è un po' particolare, perché non abbiamo potuto vedere sorpassi, non abbiamo potuto vedere una McLaren che probabilmente su un'altra pista, visto il passo gara, avrebbe attaccato facilmente quella Ferrari di Leclerc là davanti, quindi è chiaro che bisogna prendere anche un attimino con le pinze determinati dati, però può, secondo te, questa vittoria, giustamente come hai detto anche tu stesso, a livello morale cambiare qualcosa, ma proprio a livello di mondiale riaprirlo paradossalmente, anche solo i costruttori? Ti dico molto seccamente sì, e ti spiego anche perché. Montecarlo, sì, è un unicum, sappiamo che è una pista dove tu puoi girare anche due secondi più lento sul giro e la gente non ti riesce a superare perché la conformazione del circuito non lo permette. Ma al netto di questo, secondo me sì, si riaprono sia il mondiale piloti che quello costruttori, perché, beh, quello costruttori credo che mi spieghi da solo, nel senso che Perez questa fine settimana non è neanche passato in Q2, e quindi vuol dire che di fatto Red Bull si trova a lottare con una punta, se questo poi diventa il filo rosso della stagione, no? E con una Ferrari che ha una ritrovata competitività e McLaren che paradossalmente sembra non smettere mai di migliorare, dalla metà della scorsa stagione in poi, il mondiale dei costruttori sia, penso, proprio il primo che si riapre. Ma io credo anche quello pilota, non si trova in una situazione così idilliaca come quella di Max. Però è anche vero che sappiamo che Max, soprattutto magari quando piove, non riesce a dare il 100% di se stesso. Non ti dico che da qui, non ti dico che nei prossimi sei mesi Leclerc vincerà il mondiale, però secondo me almeno non ci troveremo in una situazione come quella dell'anno scorso, dove dopo il Bahrain già dicevamo che Max ha vinto. Abbiamo visto tra l'altro in pista post-gara anche il presidente John Elkan che si è congratulato con i piloti, che è andato a congratularsi anche con gli ingegneri, con i meccanici, con tutti. Quindi questo fa capire proprio che c'è un cambio di mentalità importante da parte di Ferrari, mentalità che tra l'altro è cambiata anche dal punto di vista politico. Ricordiamo che forse una Ferrari di due o tre anni fa, quando doveva imporsi sul far ripartire la gara dopo la bandiera rossa con la griglia della qualifica, probabilmente faceva due passi indietro, mentre questa volta giustamente si è imposta, perché era anche giusto, forse Carlos Sainz dovrebbe regalare anche una cena a Guanyu Joe, perché era l'unico a non aver superato il terzo settore, quindi si è potuti iniziare dalla griglia della qualifica con lo spagnolo che dopo la foratura con lo scarpiasta è ripartito terzo e quindi è finito sul podio, quindi un weekend assolutamente straordinario e emozionante per la Ferrari.